Buongiorno signori, questo io voglio spiegarvi il mio metodo che sto adottando per prepararmi alla maturità 2023 ebbene sì, quest'anno faccio quinta e mi tocca farlo onestamente preferrei vivamente di non farlo, però purtroppo bisogna farlo non mi frega particolarmente del voto, non sono di quelli che vuole prendere 100 ad ogni costo anche perché non so onestamente se con il punteggio che ho al momento posso addirittura farlo però l'unica cosa che sono certo è che secondo me quello che è importante è provarci a impegnarsi, a fare in particolare sulle cose che ti interessano perché io all'anno prossimo voglio fare ingegneria e per quanto possa non contare nulla se ottenessi un ottimo punteggio nella prova di matematica io mi sentirei felice insomma, cioè direi ok, ho scelto bene dai, anche se in realtà non vuol dire niente però è una soddisfazione personale, quindi questo è il mio piano per prepararmi prima di tutto come è composta la maturità 2023? partiamo dal presupposto che io sono un ulicio scientifico scienza applicate comunque nella mia scuola la prima prova si terrà il 21 di giugno e sarà quella di italiano la seconda quella di matematica il giorno dopo mentre quella pratica orale sarà molto più in là e lì dipenderà dal giorno insomma dipenderà un po' dal periodo, comunque più o meno dovremo finire entro i primi di luglio io di italiano ritengo che sia possibile fare una buona prova senza studiare troppo non è necessario sapere le cose nel dettaglio se non in particolare la seconda guerra mondiale o comunque gli eventi collegati, dato che se dobbiamo collegarci a qualcosa probabilmente quello è un ottimo modo per prendere spunto quindi sicuramente è uno degli argomenti più essenziali che secondo me va studiato bene in termini di storia e vabbè realtà letterarie collegate ma io penso che principalmente la seconda guerra mondiale sia il fulcro e anche la prima, diciamo gli eventi critici nel novecento vi è anche da valutare una cosa purtroppo o per fortuna gli argomenti di studio effettivamente pratici non hanno un grande peso nella valutazione finale perché sono valutabili solamente nella prova di italiano virgola nel senso, uno può driblarli facilmente dato che ci sono sette tracce ed è possibile scegliere quella che più aggrada quindi magari ti scegli un tema argomentativo per il quale se dici qualcosa di furbo su 20 punti riesci a prendertene 12, 14, una roba così non fai errori grammaticali eccetera magari non prendi il massimo però di per sé non perdi troppi punti e l'altra prova per cui possono valere tanto le prove generali è l'orale lì effettivamente è tanto però stiamo parlando di un totale di 40 punti su 100 meno della metà del punteggio finale infatti 40 su 100 si giocano negli ultimi tre anni di scuola dalla media che hai preso io dovrei avere una roba sopra il 35 ma non so quanto 20 punti sono giocati dalla matematica e se guardi sono tanti punti se uno sapesse fare quello allora avrebbe la strada ben spianata cioè magari riusciresti a guadagnarti studiando bene matematica una questione come 5-6 punti che possono valere molto di più di tutte le tue competenze che hai dovuto accumulare di tutte le altre materie messe insieme quindi di per sé se vai a vedere matematica è una risorsa se la sai fare bene perché puoi guadagnarti tanti punti studiando una singola materia quindi secondo me ha senso concentrarsi su matematica essenzialmente sembra semplice perché si ha la possibilità di scegliere tra 8 quesiti 4 e tra due problemi 1 quindi praticamente sembra di averli imbarazzo dalla scelta dove sei uno fai l'altro fai l'altro fai l'altro sembra facilissimo in realtà non è così infatti ogni problema tratta degli argomenti fatti a scuola si li tratta perché alle volte ho visto delle simulazioni in cui non erano trattati certi argomenti a scuola tra l'altro vi era scritto anche presenti nel manuale nazionale tipo della maturità degli argomenti trattati ed era segnato no non so come potesse essere costituzionale una cosa del genere però quelle erano diverse prove che avevo incontrato comunque sono molto furbo quest'oggi ho fatto questa affermazione e ho detto faccio un problema a caso e ho fatto questo problema qua poi vado, controllo alla fine e noto che effettivamente sono stupido l'argomento è presente nelle indicazioni nazionali dei licei scientifici? no difficoltà? molto alto ma potevo guardarmela sta roba però comunque sì cioè non ha un senso sti problemi cioè se uno se lo vuole fare ci mette tutto il pomeriggio non ha senso quindi sì insomma è quello da scartare senza dubbio in ogni caso sembra sempre che siano presenti quattro quesiti fattibili di matematica e quattro su un altro pianeta cioè proprio che probabilmente neanche un professore riuscirebbe a fare e non sto scherzando cioè davvero difficili mentre invece la stessa cosa si applica con i problemi anche se in questo caso sono entrambi molto difficili poi ovviamente può esserci all'eccezione, alla regola però di solito la regola ecco sono tutti molto difficili molto spesso magari collegano concetti fatti tanto tempo là indietro oppure proprio che cozzano tra di loro comunque che non si sono mai trattati in quel modo lì nei problemi classici perché non ha un gran senso perché ci sono dei problemi proprio fatti ad hoc per farti sbagliare secondo me quindi come nei test del pulitecnico o come nel test della patente dove ci sono dei test fatti ad hoc per farti sbagliare il miglior modo personalmente per migliorare ed evitare di farsi ingannare è quello di farne tanti verificare il modo in cui ragionano toccare gli argomenti tutti gli argomenti che possono essere presenti quindi il mio piano attuale è quello di concentrarsi bene su matematica in particolare ogni giorno tornare e farsi almeno un due ore in realtà il tempo non è importante però è indicativo perché se ci stai quel tempo lì concentrato probabilmente qualcosa lo farai quindi inizialmente metto un focus sul tempo e quando avrò le idee chiare riuscirò a capire quali sono effettivamente gli argomenti centrali perché avrò fatto abbastanza prove allora lì potrò mettere un focus piuttosto sugli argomenti infine parlando della prova pratica quella orale beh lì è un po' improvvisazione nel senso io credo che la cosa principale sia quella di crearsi a me nella mente vengono come delle autostrade che sono i concetti principali i filoni principali che possono essere il periodo storico i diversi personaggi collegati e poi tutte le piccole stradine che si incontri e quindi ti permettono di tornare sempre alla stradone principale in particolare l'esame con la fase orale no la fase orale non va bene l'esame orale è fatto con una foto che viene chiamata stimolo probabilmente di cagare però non potevano direlo esplicitamente quindi hanno solo detto stimolo nel modo ridotto che è parte di un evento storico per esempio non so i comunisti che issano la bandiera su Reichstein e tu da lì devi collegarti per ogni materia quindi dici ah ok la bandiera comunista e parli di storia del comunismo oppure di come della seconda guerra mondiale di scienze puoi dire ah sì non lo so nella seconda guerra mondiale i tedeschi non ricevevano la gomma quindi hanno dovuto trovare una soluzione chimica per farsi la gomma loro e parli della gomma buna e dei polimeri eccetera e vai così avanti di matematica ecco di matematica che collegamento ci trovi non lo so quindi questo è un lavoro da fare trovare per ogni argomento un collegamento che ritorni a quello principale l'unica cosa che è possibile cioè quasi certa si ritornerà sempre a degli argomenti che sono al centro cioè per esempio seconda guerra mondiale quello è un nucleo fondamentale dove avere dei concetti chiari per ogni materia prima guerra mondiale pure oppure dei personaggi particolari come mi viene in mente Van Gogh Gauguin artisti in cui una foto è facile oppure argomenti di scienze trovare dei pillar fondamentali e farci dei collegamenti io direi che tutte le strade portano al novecento prima e seconda guerra mondiale e da lì collegare poi vedremo ma come concetto di base secondo me ci sta direi che torno a farmi un po' di matematica anche se è un casino e spero che questo video vi sia piaciuto sia così lasciate un mi piace se volete un proseguimento dove magari proviamo a vedere come fare collegamenti cosa che non so come farò però vedremo magari tabelle di Notion non lo so iscrivetevi al canale e ditemelo nei commenti ci si vede nel prossimo video gente e ciao